Allora ragazzi siamo rientrati Siamo stati all'Eurospin perché c'erano le offerte E ho preso i carcioti che metto subito in congelatore perché si stanno scongelando E anche questi erano in offerta E stranamente li ho trovati perché erano rimasti giusto pochi pezzi Poi ho preso due zucchine Questa è una spesa settimanale perché ho fatto il menù settimanale E sono voluta andare così giusto per sfizio all'Eurospin Poi ho preso il succo per Denise E ne ho approfittato perché costa molto molto meno A differenza dei negozietti qui vicino a casa mia Ho preso i pomodorini Non vi dico i prezzi ragazzi perché devo far mangiare Denise Devo cucinare, è un po' tardi Poi la rucola Ho preso dei wuster così a volte capita un panino improvviso Che bisogna farlo all'improvviso quindi Morena e Alex si accontentano Si mettono due wuster dentro e non ci sono problemi Poi ho preso una confezione da tre di gigomme Una la voglio tenere in borsa, una in macchina e una confezione in un'altra macchina Di solito così faccio Non li prendo nel periodo estivo perché poi si appiccicano Quindi adesso mi sembrava più appropriato prenderle Una confezione di cerotti Questi qua 99 centesimi ce ne sono 30 Boh vedremo Poi sempre in offerta ho trovato le simil pandistelle E poi ho due o tre confezioni di queste palline A 2 ore 19 Queste sono ripiene di cioccolato Poi ci sono anche quelle ripiene con la nocellina Ma non mi ricordo come si chiama Non gli anacardi Gli arachidi E' arrivata la polpettina è finito Dai a mamma Si Poi ho preso un pacco di piadine Perché un altro pacco ce l'ho in frigo Vieni Ecco qua Facciamo vedere Fai vedere Abbiamo preso lo spezzatino Falo vedere Lo spezzatino di bovino Si L'yogurt Aspetta un attimo Poi un altro di suino Per fare il sugo domenica La salsiccia Questa sottile La faccio stasera Mettila già nella padella Un goccio d'olio Leggero Leggero Il salmone Da farci la panna La pasta con la panna Oppure così Giusto con la rucola Un po' di olio E di limone Va bene E poi ho preso Questa confezione grande Di macinato Perché Ho intenzione di fare Due Due primi Uno mi ricordo Si voglio fare quello Con la zucchina E macinato Lasciala stare Fallo Fallo Si ha il coraggio E un altro primo Così Ah le polpette Voglio fare le polpette Poi ho preso la birra E in macchina Perché la portiamo in campagna Perché Si consuma di più in campagna Vengono gli amici Vengono i parenti Quindi la beviamo Con due patatine Due Queste cose qui Avete finito Poi una confezione intera Da venti Di yogurt E questa era la spesa Dell'Eurospin Poi Prima di andare All'Eurospin Ho lasciato un rene Al cinese Perché qui ci sono 17-18 euro Non ho preso nulla Ho preso Una confezione di pannolini Che uso solo la notte Quindi adesso sto a posto Per 16 giorni Perché Solo alla notte E a volte Si alza anche asciutta Quindi Le lo rimetto La volta successiva Poi Due confezioni Di assorbenti Questo l'ho ripreso Ve l'ho già consigliato In qualche video fa Ed è ottimo E poi 5 euro Ragazzi Di questo spray Perché Le zanzare Ancora Fanno festa E niente Metto a posto Tutto E devo vedere Di fare qualcosina In casa Allora E niente Di l'ho Prima Di l'ho Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti